Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news, processo Mediaset, slitta la sentenza, Istat, sale ancora la disoccupazione giovanile, Colosseo, via libera al restauro di Della Valle. Atteso per domani pomeriggio il verdetto della Cassazione sulla vicenda Mediaset legata ai diritti tv che vede imputato Silvio Berlusconi, la seconda giornata di udienza dedicata alla ringhe della difesa. L'accusa chiede la conferma per il Cavaliere della Condanna, ma anche uno sconto da 5 a 3 anni per l'interdizione ai pubblici uffici. La crisi non molla la presa sull'Italia, nuovo record di disoccupazione giovanile che a giugno ha sfondato quota 39%, è quanto rivela l'Istat che ha diffuso anche le stime preliminari dell'inflazione. Si mantiene moderata ma non frena il carrello della spesa, ovvero dei prodotti acquistati con maggiore frequenza, più caro del 2% su base annua. Via libera ai lavori di restauro del Colosseo finanziati da Diego della Valle con 25 milioni di euro. Il Consiglio di Stato ha respinto ricorso del Codagons contro la sponsorizzazione da parte di TODZ dei lavori. Una decisione assurda, commenta l'Associazione dei Consumatori, che impugna la sentenza e ricorre in Cassazione. Rimane irreperibile padre dall'olio. Il gesuita italiano scomparso in Siria è ricordato dal Papa durante l'Omelia alla Chiesa del Gesù nell'anniversario di Sant'Ignazio di Loyola. Francesco è invitato a pregare per il religioso, mentre il ministro Bonino ha assicurato che tutti gli strumenti di intelligence sono stati messi in assoluta attività. Primi interrogatori in procura per individuare eventuali responsabilità nell'ambito dell'inchiesta sull'incidente al bus precipitato dal viadotto in Irpigna è costato la vita a 39 persone. Intanto resta riservata la prognosi per i due bambini sopravvissuti alla tragedia, che sono ricoverati in rianimazione all'ospedale Santo Bono di Napoli. Nutro una sconfinata ammirazione per Beethoven e non ho mai parlato di lui nei termini riportati. A ribadirlo è Giovanni Allevi, prima di aprire il suo concerto all'Aditorium di Roma. E per chiudere le polemiche che non sembrano cessare sul web, dai là al suo live con la Quinta di Beethoven, un'esibizione accolta da colorosi applausi. Nessun interesse in questo momento per il mercato piloti, lo mette nero su bianco il portavoce della Ferrari smettendo le voci di un possibile ritorno del finlandese Raikkonen alla scuteria del cavallino.